Il discorso di contabilizzazione, essendo che ci sono accumuli di acqua sanitaria, c'è solo un conta calorie che contabilizza tutto nell'appartamento stesso e dopo il concentratore, sempre nella centralina della caldaia ETA, concentra i dati e da lì collegata in rete è semplicissimo tenere sotto controllo i consumi, tutto in bassa temperatura e anche qui devo dire che il condominio è nuovo, ben isolato e devo dire che i consumi sono veramente irrisori. Una volta regolato tutto il sistema funziona bene.